Uomini, fratelli, già da molti anni Dio mi ha scelto fra voi affinché per bocca mia i pagani udissero l'annuncio della parola di Gesù e credessero. In quel momento noi non conoscevamo i disegni di Dio. Quando entrai nella casa di Cornelio e il centurione romano a Giaffa, molti fratelli mi rimproverarono perché la legge di Mosè lo proibiva. Ero io stesso indeciso, ma Dio che vede nei cuori fece discendere su quei pagani lo Spirito Santo senza fare alcuna differenza fra noi e loro, avendo purificato i loro cuori con la fede. Orbene, perché volete imporre sul collo di questi fratelli un gioco che né i nostri padri né noi stessi abbiamo avuto la forza di sopportare? Noi crediamo che con la grazia di Dio ebrei e pagani saranno salvati allo stesso modo.